ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo qui insieme alla scott scale rcsl una delle novità più interessanti per quanto riguarda il settore artel 2023 dopo averla provata per un lungo periodo di tempo abbiamo deciso di realizzare in questo caso un video un po' diverso non il classico video test che siete abituati a vedere di solito ma un video in cui risponderemo a 10 domande che ci avete fatto e che ci siamo posti prima di provare la nuova scale quindi 10 domande 10 risposte tutte per voi non perdiamoci in chiacchiere iniziamo subito domanda numero 1 quali sono le prime sensazioni e le prime differenze che si avvertono quando si sale in sella la scott scale 2023 beh sicuramente l'assetto se è un assetto veramente tanto racing si sente la bici molto compatta quindi merito sicuramente del piantone piuttosto verticale 75,4 gradi e anche dell'attacco manubrio corto di serie in questo caso abbiamo una taglia m e che monta di serie un attacco manubrio di 60 mm quindi piuttosto corto nonostante sia un reach un pochino più lungo quindi la bici si si guida in modo molto compatto quindi si ha un assetto veramente tanto racing e questo devo dire che mi è piaciuto parecchio un'altra cosa che si avverte subito ovviamente è il peso e le reattività in questo caso ovviamente abbiamo un modello super top di gamma da 8 kg e 9 completa con tanto di pedali quindi una bici un po' particolare però in ogni caso si ha comunque un'artail reattiva e leggera e questo si avverte sin dalle prime pedalate un'ultima cosa che si avverte appena si imbocca una discesa la grande capacità di questa bici per via sicuramente dell'anteriore un po' più aperto quindi 67,9 gradi in questo caso nonostante il travel di soltanto 100 mm sulla forcella quindi il primo impatto di una bici si racing come lo deve essere un'artail ma anche abbastanza versatile e capace divertente domanda numero 2 è più lunga come bici e anche più aperta come ci si regola con le taglie beh la risposta è molto semplice se avevate una taglia m ad esempio si sceglie di nuovo la taglia m sì perché nonostante la bici sia più lunga di rich come vi ho già detto si monta di serie un attacco manubrio un po' più corto il piantone più verticale quindi la posizione è sempre abbastanza racing nonostante si scelga la stessa taglia chi è a metà tra due taglie ad esempio tra sm tra m e l deve valutare un attimo la situazione in base a come monterà la bici perché in questo caso ad esempio non è montato il reggisella telescopico e questo incide particolarmente nella scelta della taglia se non si decide di montare il reggisella telescopico forse anche una taglia un po' più piccola sempre se sia a metà tra le due taglie potrebbe essere la scelta giusta perché si ha la necessità di arretrare tanto in discesa se invece si decide di montare un reggisella telescopico si può anche scegliere una taglia leggermente più grande perché comunque non si avrà la necessità di arretrare troppo e allo stesso tempo si può sfruttare meglio la geometria della bici proprio per come è studiata vi lascio qui un articolo del mio collega simone lucchini che approfondisce questo argomento domanda numero 3 è più o meno rigida rispetto alla vecchia scale beh sono sincero non ho provato tanto la vecchia scale ma devo dire che questa bici mi sembra per quanto riguarda il telaio un pochino più confortevole non tanto per il materiale in sé per sé che rimane lo stesso ma più che altro per le geometrie più capaci quindi una bici un pochino più distesa più aperta con un carro anche leggermente più sottile nella parte superiore un pochino più schiacciato questo secondo me dona quel mix tra attività e leggero comfort perché è sempre una tail da gara che comunque si avverte quindi rispetto alla precedente secondo me parlando di telaio è leggermente più comoda domanda numero 4 il telaio della scott scale è disponibile in tre tipi di carbonio in base alla alla fascia di prezzo cosa cambia tra questi tipi di carbonio principalmente il peso e vi spiego in breve i motivi il carbonio hmf quindi quello un pochino di fascia più bassa è comunque un carbonio ad alto modulo quindi di alta qualità che offre il giusto mix tra resistenza e fattore peso il carbonio hmx è sempre un telaio in carbonio ad alto modulo però comunque utilizza dei filamenti più sottili e questi filamenti offrono più resistenza e minor peso quindi capite bene che si può utilizzare meno materiale e quindi ridurre il peso del telaio stesso il modello invece hmx sl quindi quello che troviamo su questo modello top di gamma della della scale è ancora più voluto si utilizza la nanotecnologia questa tecnologia permette di ridurre ancora di più il materiale mantenendo però quella che è la resistenza alla solidità e la reattività del telaio quindi capite bene che si raggiunge un peso ancora inferiore in questo caso ad esempio parliamo di un telaio da circa 850 grammi capite bene tra i più leggeri sul mercato rispondo quindi in breve che dicendo che la differenza sostanziale riguarda il peso perché per quanto e in quanto a geometrie caratteristiche tecniche e feeling di guida proprio sostanzialmente sono identici comunque approfondiremo a breve questo argomento in un articolo specifico quindi continuate a seguirci domanda numero 5 come cambiano il comportamento della bici le ruote sincros silverton sl quindi monoscocca in carbonio che troviamo su questo modello rcsl beh sin da subito mi sono accorto della grande rigidezza della bici nella sua totalità anche della sua grande reattività ma soprattutto della rigidezza perché il telaio è già di per sé a tele quindi abbastanza rigido e queste ruote mi sembravano veramente tanto tanto azzardate su questo tipo di bici comunque per fare una prova quando ho avuto la bici a casa ho voluto togliermi una curiosità ho montato delle ruote tradizionali e volete vedere come andata guardate qui eccola qui la scott scale con ruote tradizionali quindi non le classiche sincros silverton sl monoscocca ma delle ruote tradizionali in questo caso ho montato le cerche in carbonio con canale 30 quindi su per giù lo stesso standard ma con costruzione tradizionale come va beh secondo me in tutte quelle situazioni di discesa fuori strada vero single track abbastanza impegnativi è decisamente meglio nel senso che comunque permette di sfruttare meglio le potenzialità del telaio quindi le geometrie moderne e via dicendo e inoltre da un pochino di comfort in più e che permette di osare un pochino di più e divertirsi anche un po di più quindi secondo me su un'artail pura che già di per sé abbastanza reattiva rigida di telaio come questa una classica ruota tradizionale è un po più per tutti le ruote monoscocca le lascerei soltanto per gli agonisti puri diciamo che anche se la bici è più esigente non è un problema e in quelle situazioni in cui la gara lo permette quindi percorsi veloci scorrevoli sicuramente lì forse danno una marcia in più per quanto riguarda la reattività che comunque rimane ottima su una bici come questa perché le caratteristiche del telaio non si vanno a perdere le ruote monoscocca al contrario secondo me le vedo molto meglio e un po per tutti sulla full perché comunque permettono di compensare sia la leggerezza che la reattività che sulla sulla full è ancora più importante a mio avviso domanda numero 6 come vanno i freni trickstaff piccola montati su questo modello rcsl valgono quello che costano beh sono sincero vanno bene ma mi aspettavo andassero meglio da un freno che è un pianto frenante che costa circa 1200 euro ci si aspetta diciamo delle prestazioni super eccellenti i trickstaff piccoli invece vanno abbastanza bene si frenano sono abbastanza potenti come frenata però innanzitutto la corsa non è troppo regolare quindi si hanno dei momenti in cui non si ha una frenata super affidabile come ad esempio si può avere con shimano o sram e inoltre la frenata è abbastanza rumorosa devo dire che utilizzando questi freni con i dischi shimano la frenata era più silenziosa quindi probabilmente può essere anche un discorso di appoppiamento pasticca disco però comunque di base mi aspettavo delle prestazioni ancora migliori li consiglio sicuramente a chi ama il peso super leggero perché parliamo di un peso di 350 grammi circa la coppia senza dischi difficilmente si può raggiungere con altri impianti frenati però comunque rimane un prodotto un po di nicchia non proprio per tutti che richiede anche abbastanza manutenzione domanda numero 7 come ci sarebbe una forcella da 110 o 120 mm beh è una domanda che mi sono posto anch'io e devo dire che secondo me si sta molto bene grazie all'eccentrico posizionato nel tubo di sterzo si ha la possibilità di aprire l'angolo quindi di portarlo a circa 66 gradi e 7 quindi meno di 67 gradi quindi questo sicuramente si abbinerebbe ancora meglio ad un travel maggiorato e abbinata questa bici diciamo questo a questo travel sia ancora più capacità in discesa e avendo comunque potendo contare di un piantone abbastanza verticale non si perderebbe troppo quella capacità di pedalata in salita o comunque laddove è necessario quindi ce la vedo bene una forcella con travel maggiore domanda numero 8 se fosse la tua bici cosa cambieresti? beh innanzitutto come vi avete già capito dal video che avete visto poco fa monterei sicuramente delle ruote tradizionali non le monoscocca queste ruote le vedo bene su una full ma su una tail secondo me sono parecchio azzardate non non permettono di rudersela questa bici in tutto e per tutto su tutti i percorsi quindi per un amatore che magari ha una coppia di ruote monterei delle ruote tradizionali poi sicuramente visto che ne abbiamo parlato una forcella anteriore da 110 mm che permette di avere quel qualcosina in più che insomma ti fa divertire e un reggisella telescopico sicuramente il reggisella telescopico è una cosa che manca veramente su questa bici Scott ha puntato molto sulla leggerezza quindi sulla semplicità però devo dire che il reggisella telescopico mi è mancato anche se questa bici si guida abbastanza bene anche senza perché comunque le geometrie lo permettono però sicuramente il telescopico permette di darci ancora più più gas in discesa quindi queste sono le cose principali che cambierei non sceglierei sicuramente questo modello super top perché lo vedo un po' di nicchia oltre ad essere tanto costoso comunque non è per tutti scegliere una cosa un pochino più tranquilla domanda numero 9 forse la più piccante perché il modello rcsl che vedete qui costa così tanto allora per chi non lo sapesse questa bici costa 13.999 euro è un prezzo sì molto alto non è una novità che le bici attualmente costino tanto forse troppo però questo è non è nostro compito spiegare i motivi nel senso che non li sappiamo sicuramente saranno delle politiche aziendali sì a volte inconcepibili però non sappiamo darvi i motivi specifici però da tecnici possiamo un attimo andare a individuare quei componenti quelli particolari che fanno alzare il prezzo così tanto allora a parte il telaio che come vi ho detto è il modello super top quindi quello più costoso di tutti quello più leggero più pregiato molto particolare sì è sempre un telaio fronte però comunque di altissima qualità sicuramente quello che fa alzare tanto il prezzo sono le ruote che queste Syncros Silverton SL nonostante siano particolari in carbonio monoscocca leggere indistruttibili quello che volete però comunque hanno un prezzo molto alto e ultimamente si sono alzate ancora di più costano oltre i 4000 euro di listino quindi come capite fanno alzare tanto il prezzo un altro componente che fa alzare tanto il prezzo sono i freni che come vi ho detto 1200 euro di impianto frenante non è poco quindi anche questo fa lievitare tanto il prezzo misuratore di potenza quark di serie anche questo costa circa oltre i 1000 euro quindi questo fa alzare tanto il prezzo cockpit integrato in carbonio gruppo SRAM access quindi elettronico sensori tire width nelle ruote insomma c'è tutto e quindi tutta questa tecnologia all'ultimo grido fa alzare tanto il prezzo non sappiamo se i 14 mila euro siano giustificati però vogliamo farvi capire che questo modello è un modello di nicchia un modello particolare non è per tutti quindi nessuno obbliga a comprare questo modello come avete visto in gamma ci sono tanti altri modelli si parte da circa 3500 euro per la bici completa si può acquistare anche il kit telaio Scott dà la possibilità a tutti di scegliere il modello che si preferisce questo costa tantissimo sì è vero non è per tutti io stesso forse non lo comprerai mai però comunque facciamocene una ragione perché questo è magari scenderanno pian piano i prezzi però comunque i motivi non li sappiamo sinceramente decima ed ultima domanda qual è il modello con il miglior rapporto qualità prezzo della famiglia Scott scale 2023 beh ci rilasciano in parte all'argomento appena appena fatto sui prezzi e vogliamo indicarvi un paio di modelli uno per l'amatore più evoluto quindi quello che più esigente che vuole una bici già pronta a competere anche ad alti livelli è uno un pochino più economico però comunque già di buon livello per competere per iniziare a fare le gare o comunque per divertirsi in sella alla bici senza spendere cifre eccessive il primo è il modello rc workup quindi montato con rock shox seed all'anteriore gruppo sram x01 equal access quindi elettronico wireless cockpit integrato in carbonio telaio in carbonio hmx quindi quello non è super top ma comunque di alto livello quindi una bici che ha tutte le carte in regola per iniziare a competere ad alti livelli che costa 7.499 euro sì non proprio pochi trattandosi di una fronte però comunque una bici già come vi dicevo super prestigiosa un modello che invece secondo noi è a tutte le carte in regola per sia per iniziare ma anche per essere una buona base per fare degli upgrade è il modello rc team ossia quello quello base della gamma che ha un telaio in carbonio hmf comunque un telaio da un chilo non super super pesante montato con un gruppo shimano xt completo forcella seed rock shox seed dall'anteriore cockpit tradizionale non integrato ma comunque di buona qualità ruote sincros in alluminio quindi una bici da 3.500 euro che ha tutte le carte in regola per andarsi a divertire su tutti i percorsi quindi secondo noi questi due sono i modelli più interessanti nella gamma scott scale ma chi volesse può anche acquistare il kit telaio al prezzo di 2.200 euro in carbonio hmx quindi un telaio di tutto rispetto a un prezzo sì non bassissimo però nemmeno tra i più costosi del mondo cross country bene quindi per concludere speriamo che queste nostre 10 risposte vi siano state utili se avete altre domande da fare scriveteci qui sotto nei commenti oppure inviateci una mail a redazione chiocciola mtpcalt.it tornando un attimo sulla scott scale quindi come avrete capito è un art tail di ultima generazione più capace divertente versatile per quanto sia sempre un art tail però comunque un art tail che merita attenzione scotta da la possibilità di scegliere tanti modelli in base alle proprie necessità quindi ce n'è per tutti i gusti se volete saperne di più sulle caratteristiche tecniche ma soprattutto sulle sensazioni di guida vi consiglio di leggervi il test che trovate qui sotto in descrizione per ora credo di avervi detto tutto ciao e ci vediamo alla prossima